E un buongiorno anche a voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV qui per il nostro appuntamento fisso con Buongiorno Rossini per un buongiorno all'insegna della rassegna stampa e della lettura e dell'approfondimento dei giornali dal Corriere Adriatico al resto del Carlino. Prima però come di consueto andiamo un po' a vedere la nostra webcam che ci mostra i tetti di Urbino ed una giornata senza nuvole visto che ci avviciniamo ad una delle settimane e ve ne sarete sicuramente accorti in questi giorni più calde dell'anno. Per questo direi di passare subito al meteo che appunto ci mostra le temperature che arrivano con picchi a superare anche i 34 gradi ma soprattutto ciò che va a preoccupare è la stabilità di una temperatura sopra i 30 gradi. Sesto discorso per quanto riguarda il clima nella regione Marche dove le temperature non sono da meno e soleggiato il pomeriggio e anche la sera un po' di rinfresco per le temperature matutine però il consiglio è quello di rimanere al fresco il più possibile o di magari andare al mare visto il bel tempo nel rinfrescarsi. Ora passiamo alla lettura dei titoli della prima pagina dei giornali prima dell'approfondimento partiamo con il corriere adriatico vediamo i super tecnici del futuro un nuovo corso di Confindustria con il supporto delle maggiori aziende del territorio avrà sede all'ITS di Fano il primo step coinvolge 25 diplomati occupazione garantita. E appunto visto che parlavamo di caldo ma questa volta più che il clima a rientrare nel discorso sono le persone rischio incendi la comunità la comunità chiede spy cam bivacchi e fuochi sul San Bartolo una zona che purtroppo negli anni abbiamo visto già vittima di vari incendi a causa di disattenzioni. E ancora barriere antirumore viabilità modificata nell'interquartieri per Pesaro e fondazione teatro cambio al vertice il saluto di Amati per quanto riguarda Fano e sempre su Fano ritorna la vicenda che riguarda il condominio Erap. Questa volta staccano il gas ma noi paghiamo la replica dei condomini che non sono morosi. E poi sul lato vediamo Acquaroli arriva ultimo ma la gente vota per noi un sondaggio e un'analisi che avevamo espresso anche ieri nel nostro telegiornale. E invece al fondo della pagina colpito da un malore muore vicino alla riva e seconda tragedia in spiaggia nel giro di 24 ore vittima un anziano pasticcere di San Costanzo. Per quanto riguarda il resto del Carlino, la squadra anti-AFA per gli anziani, l'aiuto dei volontari Hauser per affrontare l'emergenza calura, tutti i servizi fino a 100 richieste al mese. Il tema del caldo, come vedremo, è un tema che oggi ma anche nei prossimi giorni si farà molto sentire. In alto vediamo la tragedia del pensionato, muore al mare durante il primo giorno di vacanza. La foto principale del resto del Carlino è occupata da un cantiere, no una scultura. Loreto, l'opera verbovisiva, lascia la gente spiazzata, non si capisce un tubo. Mentre sulla sinistra spazio alla politica con il centrodestra all'attacco, movì da la pezza, peggio del buco, afferma l'opposizione pesarese. Urbino invece accoglie il procuratore Claudio Rastrelli, che si è appena insediato. Rileggiamo qui Acquaroli, appunto, bocciato, ma lui conta il voto dei cittadini e la sua replica. Il tema dell'ambiente con la pista contro l'ambiente, così definita da alcune associazioni, 2 milioni sono a rischio spreco. Mentre sul fondo vediamo lo sport che riguarda la VIS con il suo calendario e il Fano che nasce, rinasce il Fano. Ma di questo ne parleremo dopo, approfondendo lo sport. Passiamo quindi ad adentrarci all'interno dei giornali, a partire dal tema del caldo, il tema di maggior rilievo in queste giornate. Con l'AFA, gli anziani rifugiati negli Iper cercano il fresco e la compagnia. Siamo entrati, di fatto, nella settimana più calda dell'anno e qui nell'articolo ci sono raccolte le storie degli over 70 che devono riuscire a sfangare. Appunto c'è Mario, 79 anni, che racconta di come ha l'aria condizionata, ma deve limitarsi anche per un discorso di bollette. Secondo le previsioni meteo potrebbe questa essere la settimana più calda dell'anno. E sempre sul tema che riguarda il caldo e l'AFA c'è poi il discorso di aiuto portato in campo da Lauser e da Massimo Ciabocchi con la squadra Anticalura. Cento richieste al mese, li portiamo dal dentista e facciamo loro la spesa. Parla appunto Massimo Ciabocchi, presidente della Lauser, che aiuta la terza età. Su Pesaro il servizio è gratuito, se dobbiamo spostarci chiediamo un contributo. In questo periodo tutti i mezzi sono impegnati, abbiamo fino a 12 missioni a settimana. A soffrire maggiormente questi picchi sono i più anziani e le categorie più fragili. Per chi ne avesse bisogno, vediamo qui, sono riportati gli eventuali contatti. Il numero di Massimo Ciabocchi, 339 45 20 96 9. O in alternativa telefonare in sede all'Auser allo 0721 42 01. Passiamo ora a un altro tema che sta suscitando un po' di rumore in questi giorni, ovvero quello della Movida. Avrete sicuramente visto anche nei nostri servizi l'approfondimento che ha riguardato i temi delle spiagge, dei permessi da ballo, la differenza con quelli di musica. E appunto su questa vicenda si esprime anche il centrodestra pesarese con Movida. Il caso dei balli proibiti, festa in spiaggia, trovate il modo. Bartolomei, consigliere comunale di opposizione, esponente di una lista civica a trazione under 35, chiama in causa il sindaco Biancani, propone soluzioni avvilenti, dice Bartolomei, presenterò un'interrogazione affinché la giunta affronti il problema. E rimanendo sempre questa volta da Baia Flaminia, ci spostiamo alla stele Flaminia, appunto di via Flaminia in zona Loreto, con l'arte che spiazza. Nell'opera Verbovisiva la gente vede soltanto i tubi. L'opera è questa che vedete appunto qui nella fotografia, il caso di Loreto e i giudizi. Un medico afferma che pensava fosse un cantiere e poi incomprensibile, credevo fosse un traliccio per i muratori, mentre qualcuno apprezza e dice per me è leggiatria. Da venerdì scorso infatti al centro della rotatoria svetta la stele Flaminia, così chiamata un'opera d'arte verbovisiva dell'artista Lamberto Pignotti. A seguire poi il tema che riguarda il verde, nella pagina appunto che si intitola La battaglia per il verde qui sul Carlino e si parla della pista, l'attacco di lupus in fabula, impatto ambientale sui residenti ed è troppo vicina al fiume Foglia. L'associazione evidenzia la criticità del progetto del comune che prevede di abbattere 126 alberi. Di fatto viene specificato che il problema non sarebbe la realizzazione o meno dell'impianto, ma il luogo scelto per la sua costruzione. A parlarne sono Flavio Angelini, dell'associazione ambientalista Lupus in fabula, e Michele Ravagli, presidente dell'ASD Torrolski. Spostiamoci sempre sul tema del verde come argomento principale, ma nella zona di Piazzale d'Annunzio, dove appunto c'è il noto casco di Valentino Rossi, Piazzale d'Annunzio, il comune ha pagato 53 mila euro per il verde, ma cosa è stato fatto? La cifra affidata a un'associazione culturale già finanziata per il palio, il responsabile, ora su due piedi, non ricordo come li ho spesi. L'associazione in questione è l'associazione culturale pesarese opera maestra di Stefano Esposto, e qui viene presentato più in basso il conto dei contributi che il comune ha segnato, quest'anno di 50 mila euro per l'organizzazione del palio dei Braceri, l'anno scorso 30 mila euro che poi sono diventati 50 mila con il contributo aggiuntivo, altri 27 mila e passa per il 2022 per la realizzazione degli eventi natalizi, e sempre nel 2022 altri 30 mila euro per il palio dei Braceri, e iniziativa sulla pizza Rossini, si parla quindi di oltre 210 mila euro concessi in due anni. Il tema che poi toccherà tutti praticamente, visto che si chiama Borghi e Quartieri, è tornata all'estate capitale in tutta la città di Pesero per valorizzare l'intera città in ogni suo angolo, appunto tra Borghi e Quartieri, oltre 60 eventi, così l'estate è capitale. Fino al 30 agosto, tanti appuntamenti che coinvolgono tutte le zone della città, e la vice sindaco Vimini, l'obiettivo, vogliamo riportare le persone nelle piazze. Saranno tutti a ingresso gratuito, tra letture per grandi, bambini, burattini per i più piccoli, teatro, serate dialettali, l'osservazione delle stelle, walk escape per esplorare la città e tanto altro. Subito sotto, invece, passiamo da quello che è il tema degli eventi, a quello che è il tema del lavoro, con Plan Studio, che lancia la sua Academy per proiettare i giovani nel mondo del lavoro. In Italia i dati sull'occupazione confermano infatti un forte divario tra domanda e offerta di lavoro, con la difficoltà delle imprese di trovare candidati con un'esperienza professionale adeguata. Per questo Plan Studio ha dato vita alla prima Academy nel territorio con l'obiettivo di favorire la transizione del mondo della formazione a quello del lavoro. Per questo tema, appunto, a chi è interessato abbiamo anche un servizio approfondito, dedicato, che potete trovare, appunto, la regia ora ce lo mostra in grafica alle 21.40 questa sera. Master Plus Arredo 5.0 orienta il tuo futuro. Dunque, se siete interessati a questa opportunità per voi o per i vostri figli, appunto, per immergerli nel mondo del lavoro con elevate professionalità al loro fianco, vi consigliamo, appunto, questa sera di rimanere su Rossini TV alle 21.40. Adesso andiamo a parlare di politica, parliamo di Acquaroli appannato, così lo definisce il resto del Carlino. Un sondaggio lo boccia, ma lui non si tira indietro, indietro, scusatemi. Il presidente delle Marche si classifica, infatti, all'ultimo posto nella classifica del Sole 24 ore. Lui replica numeri che lasciano il tempo che trovano importante il voto dei cittadini. Va detto che il sondaggio non tiene conto di Toti, in quanto è, appunto, al momento sotto inchiesta indagato e non tiene conto dei governatori eletti nell'anno corrente. Spostiamoci ora nelle altre città per vedere cosa succede nella nostra provincia. e a Fano, si potrebbe dire Fano al gran completo, sindaco e giunta, chi c'è nello staff. Nuove nomine tra conferme e sorprese per affiancare l'esecutivo nei prossimi cinque anni, stipendi fino a 1600 euro, dunque la squadra del neosindaco Luca Serfilippi si può dire al completo adesso. Una squadra che, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio Comunale, si trova, come vedete, sulla destra ad affrontare subito un'importante sfida, quella della ciclovia adriatica. I fondi, infatti, sono a rischio. È una corsa contro il tempo per il Comune di Fano per rientrare nella grande della ciclovia adriatica, la pista attrezzata che correrà lungo la costa da Trieste a Santa Maria di Leuca. Di fatto deve essere approvato il progetto entro il 28 luglio e la PRG che poi dovrà passare in provincia. Dunque, conosciamo tutti i tempi della burocrazia italiana, motivo per cui è veramente una corsa contro il tempo che Fano e la nostra provincia devono fare per portare a compimento quest'importante opera per tutti i residenti, ma anche per il turismo e, di conseguenza, per le attività del territorio. E proseguiamo sempre nel Fanese, muore al mare. Nel primo giorno di vacanza la tragedia a Torrette, Rinaldo Mancini, 79 anni, di San Costanzo, era con un gruppo di anziani e di amici, si è accasciato a pochi metri dalla riva. Purtroppo è l'enensima tragedia che registriamo in questa estate. Questa volta non rimaniamo a Fano, nonostante possa ingannare, ma appunto si parla di via Fano, siamo a Mondolfo, piena di buche e rattoppi. Era stata asfaltata solo due mesi fa, appunto l'ira di Bonacorsi, hanno rifatto il manto per il giro e adesso lo sfasciano per la posa dei tubi. Sarebbe bastato accordarsi con Aset sulla tempistica, invece di avere una strada tagliata nel bel mezzo. L'ultima parentesi per quanto riguarda il Carlino ce l'abbiamo a Urbino con il nuovo procuratore. È un onore essere qui, il Tribunale di Urbino ha accolto Claudio Rastrelli, presenti anche gli avvocati. Speriamo si rafforzi il personale amministrativo. Il nuovo procuratore per 16 anni è stato al servizio di Macerata. Passiamo adesso al Corriere Adriatico, prima di andare a leggere le notizie che riguardano lo sport. Il Corriere Adriatico apre con una pagina dedicata prima alla Regione Marche, dove appunto ritorna il tema del caldo, il giorno più caldo, ma solo per ora. Diciamo che non è molto rassicurante come titolo. Picco di 39 gradi a Osimo, come leggiamo, introterra sopra i 30 gradi per 12 ore consecutive. Le previsioni sono le temperature elevate per tutta la settimana. Le Marche e tutta l'Italia si preparano a fronteggiare una settimana di caldo intenso a causa di masse d'aria provenienti dal Nord Africa. Un caldo che ci accompagnerà per tutta la settimana e speriamo dopo rinfreschi, nonostante comunque le previsioni non prevedano pioggia nei prossimi giorni a seguire. Campi in rivolta, questo è il tema che segue nel Corriere Adriatico e si rivolge alla protesta degli agricoltori, campi in rivolta, basta cinghiali, via libera alla piano per abbatterli, manifestazione di col diretti, oltre 2 mila agricoltori e trattori in corteo sotto la Regione. La Giunta approva in contemporanea la delibera per potenziare le attività di selezione. Si tratta di un piano regionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna e selvatica. Dopo qui c'è coincidenza, si chiede il Corriere Adriatico, vista la tempistica con la quale arriva. Rimanendo sempre sulla Regione, rivediamo il gradimento flop per Acquaroli. Lo vedete qua su nella classifica, al tredicesimo posto su 13 nomi. Ultimo tra i governatori d'Italia, il Presidente arriva tredicesimo nel sondaggio annuale del Sole 24 ore. La replica conta il dato reale, afferma il Presidente Acquaroli. Un mese fa, alle urne, i cittadini hanno votato per noi. Andiamo ora finalmente nella Pesarese. Ritorniamo sempre con il mondo lavorativo. Questa volta parliamo di grandi infrastrutture, confindustria, forma supertecnici del futuro. Un nuovo corso ITS a Fano, con il supporto delle maggiori aziende del territorio. Ferrini parla di un progetto di assoluta rilevanza anche per lo sviluppo energetico. Si parla di un'opportunità di occupazione stimata intorno al 99%, 1800 ore di lezione, ed è concepito per preparare giovani tecnici a lavorare nelle imprese al fianco di professionisti. Decitamente negativa, invece, la notizia che arriva per la Cassa Integrazione per gli artigiani. Il fondo va verso l'esaurimento, allarme lanciato dai sindacati, richieste in costante crescita. Mentre arrivano, invece, nuovi incentivi alle imprese che aprono attività nei borghi. Dalla Camera di Commercio, infatti, oltre un milione in due settori di intervento, ovvero quello che riguarda la transizione ecologica e l'altro, invece, rivolto allo sviluppo economico dei borghi nell'entroterra. Parliamo ora di turismo. Lo facciamo attraverso la voce dei tour operator che si rivolgono agli albergatori. Mancano le sinergie. Ricci, che non è l'ex sindaco di Pesaro, ora europarlamentare, ma è Vincenzo Ricci della Vienrosa, chiede un incontro con Apo Hotel e il Comune per nuove collaborazioni. Di fatto afferma che sarebbe un bene che i singoli albergatori investissero e facessero squadra con noi tour operator, mentre finora ognuno va per conto proprio. Parlando di Movida, ma parlandone in senso negativo, visto che si parla di bivacchi e fuochi sul San Bartolo, è un rischio continuo di incendi. Festa selvaggia sabato notte nella spiaggia di Fiorenzuola, dangeri, controlli e telecamere. Questa volta viene specificato che i bivacchi e la Movida portata sul San Bartolo, a rischio incendio, non è stata portata dai cosiddetti giovanissimi, ma appunto da degli adulti. e quindi torna questa paura di un San Bartolo che troppe volte purtroppo ha visto le fiamme prendere il sopravvento sulla sua magnifica bellezza verde. Subito sotto invece vediamo i furbetti che ignorano le regole, ci hanno stancato. Si rivolge appunto alla polemica che si era alzata in questi giorni, di cui parlavamo anche prima. In questo caso c'è l'intervento della Presidente dei Commercianti di Baia Flaminia sulla Movida, la nuova giunta e dialoghi. Buonsenso e leggi da rispettare? Questa è la ricetta della Presidente dei Commercianti di Baia Flaminia, Goffredo Ferri, per porre fine a quest'estate, per finire l'estate, senza troppe inutili polemiche. Su Pesaro e Provincia un altro dei temi che sta prendendo molto piede, molta discussione, quello che riguarda le nuove barriere contro il rumore. Interquartieri cambia la viabilità. Via Berlinguerra chiusa da giovedì, già ieri le prime code, critiche all'impatto delle protezioni. Si montano infatti i pannelli fonoassorventi lungo l'interquartieri di Muraia, ma c'è chi sui social li ritiene antiestetici in quel contesto, questi appunto pannelli acustici. A questo punto, visto che i nostri social sono attivi, e tra poco andremo a leggere anche i commenti, dateci un vostro parere, se siete del vostro, comunque sia se passate per quella strada, essendo comunque abbastanza trafficata, di cosa ne pensate sia di questi pannelli, ma anche di questa chiusura dovuta appunto agli ultimi piccoli interventi che riguardano la strada. Intanto andiamo a leggere l'articolo sotto, mentre voi vi divertirete sui social a darci i vostri pareri. Noi intanto andiamo a vedere le docce high-tech nelle spiagge libere per non sprecare acqua, qui in foto con il mio sindaco Andrea Biancani. Le prime installazioni alla Baia saranno utilizzabili da bagnanti e amici a quattro zampe. Ricordiamo infatti a Baia Flaminia, no? È stata inaugurata pochi giorni fa proprio anche la spiaggia per chi ha un amico a quattro zampe. Dunque, se volete andare a fare il bagno al mare con il vostro amico animale, Pesaro vi offre anche questa opportunità. Ovviamente il gioco di parole vi lascia intuire che sia a Baia Flaminia. Parliamo di spettacolo, lo facciamo con il ritorno del musical dei ragazzoni. Andrà in scena per il Miral Teatro. Dopo cinque anni, infatti, con Aladdin Seine, la T41 ribadisce la sua vocazione all'inclusione. L'appuntamento è giovedì 18 luglio alle 21.15 all'interno della rassegna Miral Teatro. E subito sotto possiamo vedere un'estate capitale tra i borghi e i quartieri, appunto gli oltre 60 eventi con serate dialettali, feste, musica e warscape. Fino al 30 agosto coloreranno le serate dei quartieri di Pesaro in nome della cultura. Per quanto riguarda la provincia, apriamo prima con Urbino. Arritmie e scompenso cardiaco, impiantato un micro dispositivo, intervento all'avanguardia dell'equip della cardiologia di Urbino. È il primo nelle marche. Ne avevamo parlato anche ieri sera nella telegiornale. Si tratta di una nuova tecnologia che permette di accrescere ulteriormente la qualità del servizio sanitario offerto alla popolazione del reparto diretto dal dottor Paolo Busacca. Insomma, un gran bel traguardo per quanto riguarda la tecnologia sanitaria nella nostra provincia. È sempre sotto, Urbino è stupenda, proseguirò il lavoro dei colleghi. Sono le prime parole del nuovo procuratore di Urbino Rastrelli che si è insediato e promette di organizzarsi al meglio. Sufano, voce al teatro. Con il teatro della fortuna, dieci anni di crescita, stretto rapporto con la città e i giovani. La presidente Amati rivendica i risultati della sua gestione. Legame mai interrotto anche con il Covid. Ricordiamo di quanto sia stato difficile il periodo pandemico per tutti e soprattutto per le attività del mondo della cultura. In particolar modo chi, come il teatro, vive di persone e di spettatori. Sempre su Fano, la notizia che riguarda l'uomo colto da un malore muore in acqua, tragedia fotocopia dopo 24 ore, sulla spiaggia di Torrette, vittima Rinaldo Mancini, 79 anni, di San Costanzo. La stessa dinamica di Gimarra. E andiamo subito allo sport. Come potete vedere, partiamo dal parlare della nuova vis che si fa conoscere subito dai tifosi. Fino a giovedì i tifosi infatti potranno seguire al Benelli il team di Stellone. Il calendario regala i derby ravvicinati a novembre con Ascoli e Rimini. Nella mattinata di ieri è scattato ufficialmente il preraduno al Benelli. Gli allenamenti due al giorno di oggi, domani e giovedì, saranno rigorosamente a porte aperte. Poi i biancorossi si sposteranno sul balcone delle Marche, così viene definito, ovvero il maceratese. L'11 agosto è il primo match ufficiale in Coppa Italia contro l'Arezzo. Preparatevi perché in cantiere ci sono le amichevoli contro Cesena, Monza e Venezia. Insomma, delle sfide da Serie A per la Vispesalo. Altro tema importante, se parliamo di calcio, è quello che riguarda il consorzio Fano Sport. Petrucci sarà il presidente, la nuova cordata è formata da 18 imprenditori locali, alla guida del costruttore già patron dell'Alma dal 2001 al 2003. Insomma, un in bocca al lupo a Fano che spera di ritrovare nuova linfa con questo nuovo consorzio, dopo le battaglie portate avanti anche dal comune stesso e dal sindaco. Concludiamo le letture dello sport del Corriere Adriatico con l'AVL. Tanti ex sfideranno l'AVL. Bucchi, dell'Angelo, Boniccioli, Dalmonte, Pilastrini. Eramagli pronti a dare battaglia in campionato. Maretto in campo all'Europeo Under 20, in 23 minuti ha realizzato 13 punti nel match Italia-Israele. E continuiamo sempre parlando di sport, però lo facciamo questa volta con il quotidiano sportivo del resto del Carrino, del quotidiano nazionale. Le notizie su quello che riguarda l'Europeo direi che sono ben più che note. Noi parliamo della Vis, già a tutto gas con Mister Stellone. Doppia seduta per inaugurare il raduno. L'allenatore romano non fa sconti ai 32 giocatori. Sugli spalti del Benelli circa 50 tifosi. Venerdì si parte per il ritiro di Cingoli. Niente sconti nel primo giorno di scuola. Doppia seduta allo stadio Benelli. Ci sono tutti quelli annunciati, 32 giocatori sul campo. Una decina di sagome scure. Sono gli uomini dello staff che attenzionano appunto i calciatori bianco-rossi. E subito sotto possiamo vedere il calendario che accompagnerà la Vispes. finalmente fuoriuscito per chi non stava più nella pelle. Appunto l'apertura con Torres e la chiusura con la neosquadra di questo girone, ma della Serie C del mondo del calcio in generale, ovvero Milan Futuro. e nel mezzo appunto il derby con l'Ascoli e a seguire quello con il Rimini, che se anche non è un derby regionale è decisamente abbastanza sentito, vista la vicinanza tra le città. Per quanto riguarda il panorama sportivo che riguarda il Fano, anche sul quotidiano sportivo del Carlino è nato Fano Sport, un consorzio per la città creato da 18 imprenditori. La firma ieri davanti al notaio. Avvieremo contatti col comune da subito per farci carico della situazione del calcio fanese. Caso Alma dunque in primo piano da oggi si fa sul serio. Ieri pomeriggio appunto i 18 imprenditori fanesi hanno dato vita al consorzio che si occuperà dello sport cittadino, ma come abbiamo detto il focus principale di questo inizio della loro avventura sarà concentrata sull'Alma e Fano. In particolare avvieremo i contatti col comune da subito per farci carico della situazione del calcio fanese. Dopo tutto siamo in Italia. Il calcio comunque assieme al basket ovviamente per la nostra provincia riveste un ruolo importantissimo. Dunque l'attenzione sul panorama calcistico a Fano per una squadra come il Fano non poteva essere da meno. E ovviamente a seguire poi troviamo l'AVL con il presidente Valli che si dice soddisfatto. Partiti tardi ma ci stiamo muovendo bene. Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sulla rinnovata sponsorizzazione da parte della famiglia Beretta della Carpegna Prosciutto. I telefoni degli agenti, dei giocatori americani che Pino Sacripanti ha messo sotto osservazione non squillano. Questo almeno fino a ieri mattina ma non c'è nessun tipo di preoccupazione in società perché sono e siamo molto soddisfatti di come ci stiamo muovendo tenendo anche conto che ci siamo mossi con ritardo ma appunto non poteva essere diversamente visto che si è dovuto ricominciare anche per l'AVL da zero. E adesso prima di passare ai saluti e ai programmi vediamo un po' di commenti di chi ci ha scritto e ci sta scrivendo ancora nella mattina di oggi. Vediamo tantissimi saluti. Appunto ecco arrivano i commenti sulla scultura della rotonda di Loreto. C'è Maurizio che ci scrive penso meriti una menzione speciale con un bel sorriso a Fano sono più svelti e seri il comune funziona molto bene Pesaro è indietro in tutto e per tutto invece il commento che ci arriva da Michela con un applauso per il comune di Fano la nostra Nicoletta che ci saluta buon martedì anche a te Nicoletta e buon martedì a tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici poi Stefano che oltre al buongiorno dice fossi in acquaroli qualche riflessione sui fallimenti della giunta regionale specialmente sul fronte della sanità e della cultura la farei un po' meno di arroganza farebbe bene dunque anche il tema politico affrontato dai nostri telespettatori il comune di Pesaro è un grosso buco dove sono stati buttati tutti i soldi visto che abbiamo un sacco di buche strade malmesse eccetera eccetera che città della cultura è sempre da Stefano il messaggio che vorrebbe trasmettere la scultura in legno quindi torniamo a parlare appunto dell'opera sulla su via Flaminio in largo Madonna di Loreto non sarebbe poi così immobile peccato però per l'impatto estetico non proprio dei migliori porgo nuovamente la domanda a cui nessuno del comune rispose che fine ha fatto la scultura di Davide dall'osso e quando e dove la riposizioneranno attendo risposte non solo io potremo vedere anche di prenderci noi un po' questa causa per questa domanda la ricerca di una risposta sulla statua scomparsa la ricerca della statua perduta e magari appunto vedremo un pochettino di indagare di cercare di dare una risposta anche a questo commento perché alla fine è anche un po' il ruolo dei giornalisti e di Rossini TV quello di dare risposte alle domande dei cittadini stessi oltre a quella ovviamente di tenervi informati bene per quanto riguarda i giornali è finita quella che è la lettura vediamo ora i programmi in anticipazione l'abbiamo anche vista incrociandola con i vari titoli però partiamo da questa sera alle ore 21.20 Camera di commercio delle marche promozione di due bandi legati al territorio regionale bando borghi anche questo punto ne avevamo accennato durante la rassegna stampa è il bando dedicato alla transizione ecologica da parte della Camera di commercio e anche a determinati borghi e a seguire poi un altro un corso che si chiama Master Plus Arredo 5.0 organizzato da Plan Studio Orienta il tuo futuro che si terrà e andrà in onda questa sera alle 21.40 avete l'estate di tempo ma affrettatevi per iscrivervi a questo Master che cerca di fare da ponte tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro ecco un ponte che spesso manca in questo caso Plan Studio si fa costruttore di questo collegamento e poi ovviamente l'appuntamento che non può mai mancare alle 19.30 con Rossini News per tutte le notizie della giornata nel nostro telegiornale con le repliche alle 20.30 23.30 e mezzanotte e 30 per chi diciamo va a letto un po' più tardi e il giorno seguente invece per chi si sveglia presto prima di Buongiorno Rossini con alle 6.30 e poi alle 13.30 per un pranzo in compagnia sempre di Rossini TV bene per questa rassegna stampa per questo Buongiorno Rossini è tutto io telespettatrici e telespettatori vi ringrazio di essere stati con noi non cambiate ovviamente canale adesso rivedremo il meteo insieme e soprattutto una buona mattina a tutte e a tutti grazie grazie